Come vedete ai lati ci sono buche grossissime, la gente qui va forte e nessuno si prende la briga di venire a giustare questa strada con un asfalto decente. È un appello alle istituzioni, quello fatto da Daniela Pascucci, che vuole attirare l'attenzione sulla condizione disastrata di via Borghetto nel comune di Colli al Metauro. Buche profonde, rattoppi, avvallamenti rendono pericolosa questa strada, percorsa ogni giorno da pedoni, ciclisti e da centinaia di auto e mezzi pesanti. Ci sono delle buche che sembrano come crateri. Ieri pomeriggio una signora verso le 3 con una panda ha preso la ruota, quella dalla parte non guidatore, in pieno. L'ha praticamente rotta perché il tempo di entrare dentro casa mia la gomma proprio si è, insomma, si è rotta, ecco. Quindi io chiedo a prendersi a cuore anche le persone che abitano qui perché qui è una strada molto trafficata, essendoci la Porcilaia e essendoci la Schnelle, quindi rappresentanti, camionisti che devono venire a tirare giù la merce e quant'altro. Qui è un via vai, poi se si incrociano due camion è un casino. Poi la gente va velocissima tutte le ore, quindi devi stare attento anche a tirar fuori il naso dall'angolo della casa perché ti portano via anche il naso, insomma. Gli operai, prosegue Daniela, sono venuti a rattoppare qualche buca, ma alle prime piogge la situazione è tornata ad essere sempre la stessa. Lavando i piatti, che ho praticamente la cucina adgecente alla strada, è passato un camion che mi ha lavato praticamente la schiena, essendo dentro casa, cioè non ci ho capito niente perché mi sono sentita proprio come se avevo una nuvola di fantozzi sopra la mia testolina. Avevo la finestra aperta? Avevo la finestra aperta perché giustamente d'estate è caldo. Una delle soluzioni, secondo la residente, sarebbe quella di aggiungere una cartellonistica adeguata per fare in modo che i camion e i tir vengano dirottati nell'altra strada, via San Liberio, che è più grande e asfaltata. Io richiedo di fare la strada come si deve, in più hanno anche la possibilità di allargarla, visto che c'è una zona industriale, dà la possibilità anche a queste persone di camminare meglio, senza dover andare fuori strada o a destra o a sinistra oppure di fare un incidente frontale.